Siamo con Sergio Colavita su Foggia Città Aperta, siamo al Caffè della Piazza in Via Conte Appiano e parliamo di Baol, parliamo di questo concorso letterario. Che cos'è Baol? Quando scade e come si partecipa? Allora, scade il 30 ottobre ufficialmente, però sicuramente ci sarà una proroga a giorni che segnaleremo sul sito, le modalità di partecipazione sono segnalate tutte sul nostro sito www.spaziobol.com Quindi quarta edizione, quest'anno il tema di riferimento è l'amore ai tempi dell'IKEA, che cosa significa? L'amore ai tempi dell'IKEA, diciamo che la parte più creativa è quella di trovare un tema per questo concorso letterario che faccia solo da spunto, che sia semplicemente un input per dare l'opportunità di confrontarsi mettendo insieme varie categorie. Quest'anno la scelta è caduta appunto su un brano dello Stato Sociale, che è un gruppo che sta scardinando anche, diciamo così, un po' la musica, certi canoni consueti della musica nazionale. Ecco, ci sembrava un bel tema, sia perché può dare spazio anche alla contemporaneità, quindi alla globalizzazione, al fatto della velocità che si ritrova anche nei rapporti. Questo chiaramente è uno sfogo, è un input, è uno stimolo, da cui si possono imbastire storie di qualsiasi tipo e soprattutto che a ciascuno danno le emozioni che uno si sente di trasmettere poi con la scrittura. Senti invece, una delle novità forse più interessanti, voi che utilizzate spesso la metafora walloriana, quindi con Baol, con la salsa Campbell, nelle altre edizioni, questo quarto volume, e invece include anche una sezione visual. Allora, la comunicazione l'anno scorso, come hai detto tu, era il barattolo della zuppa Campbell, dei fagioli Campbell di Andy Warhol. Quest'anno abbiamo creato, riprendendo sempre Warhol, il brillo, il famoso detersivo, da qui l'intersezione anche con una parte artistica era dovuta, diciamo era quasi d'obbligo, e con la partecipazione e la collaborazione di ragazzi anche dell'Accademia abbiamo creato questa sezione visual che era diciamo uno sfogo quasi naturale. Anche qui si può partecipare, c'è un monte premio in palio, le modalità di partecipazione sono sempre sul sito, ci sarà una selezione tramite foto delle opere d'arte che entreranno in concorso, e poi ci sarà l'opportunità di allestire una mostra con queste opere che entreranno in concorso. Senti invece, Warhol, oltre al concorso di cui abbiamo parlato fino ad ora, è anche un sito molto bello, molto vivo, ma è soprattutto una web tv letteraria. Ecco, come si fa una web tv letteraria? Allora, una web tv letteraria è, diciamo così, era una scommessa per parlare di libri che vanno di pari passo con la scrittura, in modo, diciamo così, anche un po' più fresco, anche un po' più giovane, diciamo sullo strumento, sull'oggetto, scrivere il libro che può creare un po' di distanze con i ragazzi. No, invece la scommessa era proprio questa, di volta in volta intervistiamo gli scrittori che passano in città. Abbiamo cercato di fare in modo che questo concorso di scrittura desse anche delle opportunità, degli indirizzi, dei suggerimenti e chi può darli, se non proprio gli scrittori o anche gli editori che sono capitati a tiro di ball. Questa è stata un po' la scommessa, cioè non un semplice concorso dove si scrive e si partecipa, ma anche l'opportunità di parlare dei libri, delle edizioni, come si fa a pubblicare, quali sono le strade che si devono percorrere, il rapporto con la letteratura e con il web, che ormai è una cosa ovvia, intervistando gli scrittori stessi. Allora, l'ultima domanda, che racchiude un po' due domande, come è cambiato il modo di fare Baol in questi anni e soprattutto se sei in grado di darci qualche numero, quindi anche il tipo e la forza di adesione degli studenti e anche degli appassionati di scrittura? Allora, dalla prima edizione, per quanto riguarda i numeri, dalla prima edizione di 22-23 partecipanti siamo arrivati all'ultima edizione che era di oltre 70 partecipanti. La cosa bella è stata anche la serata finale, siamo riusciti, grazie anche all'impegno della Disu Puglia, a far venire, a far giungere a Foggia e questa è una bella soddisfazione per la città. studenti che partecipavano anche da Taranto, da Lecce, da Bari. Abbiamo organizzato un pool, ma sono venuti a Foggia per partecipare alla serata di prima azione. Sì, è cresciuta e l'evoluzione è proprio quella. Una web tv sempre meglio organizzata, contenuti sempre meglio gestiti e anche una campagna di comunicazione sempre più fricchettona, però fricchettona in maniera pensata e ragionata. Come ad esempio quest'anno c'è il Brillo e soprattutto il Brillo Ball, e soprattutto c'è la Magic Box Ball, che è praticamente un incrocio tra Art Attack e il favoloso mondo di Amelie. Insomma la scatola si ritaglia, si può portare dappertutto, si fanno delle foto, si postano sul Facebook e alla fine la più cliccata avrà anche un premio, una piccola soddisfazione dal nostro Baol. Allora ringraziamo Sergio Colavita, ringraziamo anche Stefano Benni che dà il nome al concorso, quindi Baol è un titolo di Benni. Quindi l'appuntamento è a dicembre per questa serata conclusiva, nel frattempo ci godiamo i racconti che arriveranno al concorso di Baol. Grazie a tutti.